Tra tutti gli oggetti astrofisici che conosciamo, probabilmente quelli che hanno meno bisogno di aggiunte per renderli un po' più misteriosi sono i buchi neri. Eppure, continuiamo a trovare cose incredibilmente misteriose intorno ai buchi neri, cioè è come se se ne attirassero ancora di più. In questo caso, per esempio, parliamo di ecchi di luce in raggi X che vediamo come dei misteriosi anelli che si sono formati intorno ad una coppia tra un buco nero ed una stella. Cosa sono e come mai si vedono solo in raggi X? Beh, oggi lo scopriamo. Eccoci qui. Quindi, cosa ha tanto da attirarselo a questo piccolo oggetto misterioso nel cielo? Beh, intanto è un micro quasar. I quasar sono fonti di energia che vediamo a distanza di miliardi di anni luce, perché sono molto molto lontani da noi di solito, e sono regioni al centro delle galassie dominati da un buco nero supermassiccio, quindi di milioni o miliardi di volte la massa del Sole, che stanno divorando interi pezzi della loro galassia. Di solito si tratta delle nebulose nelle vicinanze o delle stelle che sono finite da quelle parti, e quando fanno questo creano un disco di accrescimento intorno. Cioè, immaginatevi quando tirate il tappo da un rubinetto e l'acqua scende a vortice. Ecco, una cosa un pochino simile, in cui si forma un disco enorme con la materia che piano piano cade verso il buco nero, e quel disco forma, per attrito, arriva a temperature di milioni di gradi Celsius. E nei campi magnetici che si formano, particelle del disco vengono strappate e lanciate via con tantissima energia a velocità quasi vicine a quelle della luce. A quel punto, quelle particelle arrivano fino a noi e spesso magari colpiscono il gas intorno, lo riscaldano, quindi vi riusciamo a vedere anche dei getti, e in base a come è orientato le chiamiamo quasar, blazar oppure radiogalassie, in base a come è questo oggetto orientato verso di noi o un alto o in basso. Questi sono i quasar, quando li abbiamo scoperti pensavamo fossero delle stelle, ma poi abbiamo scoperto che, ok, sembrano delle stelle ma sono a miliardi di anni luce da noi, quindi per essere così luminosi da sembrare stelle, nonostante la distanza, devono essere incredibilmente energetici, e però da lì è rimasto il nome quasar, da quasi stellare. Questo è un micro quasar perché il funzionamento di quello che fa è simile a un quasar, ma tipo versione CB, perché è familiare con il mondo fumetti, otaku giapponese. È una versione mignon, piccolina, quindi è un cucciolo di quasar. Fa quello che fa un quasar, ma lo fa con una piccola massa, il buco nero in questo caso di cui stiamo parlando, ha circa nove volte la massa del sole, e ha una compagna che è una stella di circa poco più di una metà della massa del sole, un po' meno della massa del sole. E si orbitano intorno ogni circa sei giorni a qualcosa, si trovano a 7800 anni luce da noi, quindi qui nella nostra galassia, e l'abbiamo scoperto inizialmente negli anni 30, quando l'abbiamo scoperto in realtà abbiamo visto solo la luce della stella, che fu battezzata V404 Signi, Signi è per la costellazione del Cigno, 404 indica non il fatto che non funziona internet, ma la posizione nella costellazione, e V sta per variabile, quindi è la 404esima stella variabile, in questo caso, della costellazione del Cigno. È variabile appunto perché rilascia, cioè ha dei momenti in cui la stella rilascia un sacco di energia. Poi in realtà negli anni 80, verso la fine degli anni 80, abbiamo scoperto con un'altra pubblicazione, grazie a un ricercatore giapponese, oddio ora sto andando a memoria e non mi viene in mente, comunque abbiamo scoperto dei rilasci di raggi X, e questo era misterioso perché una stella singola così non riusciva a fare qualcosa del genere, poi abbiamo scoperto che intorno c'è un altro oggetto molto massiccio, misterioso, e poi abbiamo visto che si tratta di un buco nero, e questo buco nero sta mangiando pezzi della stella e sta rilasciando periodicamente lampi in raggi X molto intensi. Ora, parliamo degli anelli che abbiamo osservato, sono stati scoperti quest'anno da Sebastian Haynes dell'Università di Wisconsin e Madison e lui li ha scoperti guardando indietro nei dati di alcuni telescopi spaziali come Swift, per esempio, che ha visto questi lampi già dal 2015. Ora, quando li ha visti erano stati catalogati insieme, ma succedono talmente tante cose, tutte insieme, che a volte è facile perdersi qualche lampo per strada o magari nessuno l'ha notato. Quindi lui, tornando nei archivi, ha notato che c'era questa cosa strana e è andato a pescare anche in altri telescopi, come Chandra, che osserva in raggi X, e mettendo insieme i dati ha trovato diverse eruzioni di raggi X e poi, guardando in dettaglio alla luce, i raggi X tutto intorno, specialmente grazie a Chandra, ha scoperto gli anelli che vedete nelle immagini. Ora, qui arriva la parte affascinante riguardo all'interazione del buco nero e quello che lo circonda. Gli anelli che vedete in realtà sono ecchi, i raggi X, dovuti al fatto che i raggi X che vengono rilasciati dall'interazione tra il buco nero e la stella, vengono sparati lontanissimo, ok? Quindi immaginatevi, qui è il buco nero, col suo piccolo disco di accrescimento, no? I raggi X vengono lanciati via. Quei raggi X, sono fotoni, no? Sono piccole particelle che colpiscono poi delle regioni dove si sono accumulati, in base alla variabilità della stella, quando la stella rilasciava pezzi di se stesso di gas e polvere, sono stati depositati, appunto, sono creati vari anelli che erano già presenti. Quando i raggi X arrivano lì, colpiscono la polvere e il gas negli anelli e poi da lì vengono rilasciati indietro come raggi X e noi riusciamo a vederli. Quindi noi vediamo l'eco, il rimbalzo dei raggi X, sulla polvere e gas che c'è lì, che altrimenti, essendo così soffusa, non riusciremo a vedere. Il fatto è che l'energia dei raggi X che arrivano fino a lì è talmente alta che poi dopo riusciamo a vedere bene il rimbalzo. Quindi è come l'eco per la voce, che rimbalza su una superficie lontana e ritorna da voi. In questo caso, appunto, abbiamo l'eco dei raggi X che arrivano fino al gas intorno, rimbalzano e riusciamo a vederli anche noi. E abbiamo analizzato, tra l'altro, grazie ai raggi X, la composizione della polvere presente qui, scoprendo che è metallica, scoprendo che probabilmente appunto è legata alla vita della stella e al fatto che sta invecchiando e un giorno potrebbe anche morire. Questa stella potrebbe, sicuramente morirà, potrebbe morire appunto divorata completamente dal buco nero e al momento ha avuto diversi episodi nel tempo di Nova e quindi momenti in cui rilascia tantissima energia e poi dopo torna tranquilla. Quindi non solo variabile, ma anche delle eruzioni periodiche molto intense. E quindi molto di quel materiale proveniva probabilmente da questi eventi. Nel futuro cosa ci aspetta per questo sistema? Beh, potremmo sperare un giorno di trovare magari onde gravitazionali da questi due oggetti che si ruotano vicinissimi e magari in futuro con altri telescopi potremo trovare tracce della polvere intorno. Magari i telescopi a infrarossi come il James Webb potrebbero essere sufficientemente sensibili da vedere questa polvere che al momento con telescopi attuali non riusciamo a vedere. È troppo sottile e troppo fredda. Quindi, ecco, future indagini potrebbero svelarci di più riguardo alle eruzioni e magari un giorno riusciremo a beccare in diretta una di queste mentre succede e vedere poi l'evoluzione di questi ecchi. Perché in altri casi, pensate per esempio a... Se avete mai visto le animazioni per esempio della Pulsar della Vela dove ci sono ecchi simili, anche lì mettendo insieme dati di tanti anni si riescono proprio a vedere le onde quando gli ecchi si propagano attraverso la polvere. Ed è meraviglioso. Quindi un giorno potremmo vedere video di questo sistema. Che belli i buchi neri. Se c'era un motivo, se c'era un modo per renderli ancora più affascinanti e interessanti era aggiungere degli anelli misteriosi in raggi X tutto intorno con dei ecchi meravigliosi, grandi, anni luce da una parte all'altra. Prima o poi riusciremo a vedere uno da vicino, crociando le dita. Non troppo da vicino perché comunque sono molto pericolosi ma insomma abbastanza da riprenderlo e vedere qualcosa più dettagliato. Un abbraccio fortissimo, continuate ad essere meravigliosi noi ci vediamo presto per un altro video come sempre. Grazie di cuore di averlo visto fino alla fine e se vi è piaciuto potete condividerlo. Sotto c'è il tasto mi piace e c'è anche la campanella che potete cliccare per avere le notifiche o comunque sperare di averle. Non lo so, è un po' una lotteria. Però, ehi, spesso funziona quindi tentare non noce. Un abbraccio forte! Ben trovati nella handcard. Ieri sera sono riuscito a dormire poco quindi sono un po' mezzo addormentato ma sono abbastanza sveglio da ricordarmi che le tazze che vedete nei video sono in realtà anche nello store. Quindi se volete delle belle tazze che possono funzionare in un sacco di modi come tazza, come supporto potete tipo schiacciare delle cose potete prenderle, sollevarle, ripoggiarle funziona molto bene. Questa tra l'altro è stata una delle innovazioni di cui abbiamo traccio già dall'antichità quindi mi sono sempre immaginato che ci devesse stato qualcuno che ha pensato e gli aggiungo una maliglia perché è caldo e non voglio toccarlo e bruciarlo. E tutti gli altri intorno avranno detto sei un genio! È un tempo quando non c'era niente è molto più facile avere colpi di genio di questo tipo però ecco ode a te designerla fuori di migliaia di anni fa che ha pensato ci aggiungo una maliglia bravo! O brava? Non lo sappiamo. Cosa volevo dire? Ah sì, giusto! Raggi X è uno dei telescopi che è meno decantato secondo me e meriterebbe molti piloti di così è Chandra Chandra fa un lavoro splendido è tipo l'equivalente del Hubble in raggi X è stato rivoluzionario come telescopio ci ha permesso di vedere una miriade di cose che altrimenti sarebbero state invisibili abbiamo fatto indagini in summa alla materia oscura collisioni di galassie quasar stelle neutroni buchi neri stelle che erano appena nate di tutto e di più è il lato più estremo dell'universo insieme ai raggi gamma ed è una gioia sempre vederla e se non avete visto niente di Chandra o non la conoscete andate a vedere il sito di Chandra che è un telescopio della NASA e ci sono intere gallerie di immagini in raggi X del cielo ed è una cosa un'esperienza completamente nuova di come vivere l'astronomia rispetto a quello che magari siete abituati a vederlo sempre in luce ottica fatemi sapere se vi piacciono io vi abbraccio fortissimo e come sempre sotto trovate anche il link a Patreon dove potete aiutarmi a continuare a mandare avanti la baracca e vi ringrazio tantissimo grazie di cuore a tutti quelli che già mi sostengono e un abbraccio a tutti quelli che vogliono aggiungersi un abbraccio anche a voi che siete già presenti abbraccio a tutti a presto a presto a presto